salve cari carissimi tutti quanti voi che mi seguite allora questa persona che avete in testa sembra indifferente ma è vero o finge vediamo un po abbiamo la morte quindi qua si vorrebbe una rigenerazione questa persona è falleremita un po si è messo da parte perché vi ha creato dei tradimenti questo è stato proprio insomma se non si è comportato bene guardate questa persona vorrebbe farvi delle scuse chiamarvi vorrebbe in qualche modo riaprire i rapporti con voi quindi questa sua indifferenza è assolutamente fittizia in realtà vedete ha un legame molto forte molto proprio un affetto enorme ha nei vostri confronti però lui essendo facendo il l'imperatore capovolto si comporta in maniera prepotente crudele quindi lui si comporta in maniera indifferente con questo suo allontanamento diciamo con questo suo modo di fare anche come l'imperatore no è duro e arrogante nei vostri riguardi però in realtà vedete lui sta soffrendo tantissimo per questa separazione vedete abbiamo sentimenti non corrisposti lui è convinto che quello che va combinato no questi malintesi questi doppi giochi qua ci sono stati insidie cose nascoste c'è questo non va risparmiato assolutamente niente questa persona proprio è stato veramente un traditore incredibile vedete però lui in qualche modo con astuzia con con affabulazione è molto abile farà di tutto per ritornare da voi per avere nuovamente questo amore perciò andiamo alla domanda questa persona indifferente vera è vero che indifferente o finge finge assolutamente perché vedete lui nel suo dna ha proprio la spavalderia l'arroganza è un vanesio quindi lui non vuole darvi soddisfazione l'imperatore capovolto va bene ragazze però vedete qua abbiamo la papessa capovolta quindi ipocrisia scelte azzardate quindi lui fa finta di esservi che voi fa finta di essere indifferenti a voi per ipocrisia perché ha paura di fare una scelta azzardata ma soprattutto ha paura che voi gli date il ben servito un bacione a tutti dalla vostra zaira ciao